Sono dati positivi quelli che giungono sul fronte del mercato del lavoro. Secondo quanto evidenziato dall'Istat, a marzo il tasso di disoccupazione generale rimane stabile all'11%. Continua poi a crescere la stima degli occupati, che registra un più 0,3% rispetto a febbraio, pari a 62.000 persone in più che lavorano, anche se scomponendo i dati, 56.000 sono lavoratori indipendenti e solo 6.000 quelli dipendenti, e occupati a termine salgono di 8.000 unità, mentre quelli stabili diminuiscono di 2.000. La ripresa economica sta dando i suoi segnali anche nel mercato del lavoro e quindi l'occupazione cresce. La struttura produttiva italiana in questa fase richiede un mix fatto da maggiori lavori a tempo determinato rispetto al tempo indeterminato. Il tasso di occupazione si attesta al 58,3%, 0,2 punti percentuali in più rispetto a febbraio, un livello record dal 2008, e calano gli inattivi in un mese di oltre 100.000 unità. Un aspetto di rilievo nell'ultimo mese, sottolinea l'Istat, è la crescita dell'occupazione giovanile, con 68.000 occupati in più tra i 15 e i 34 anni. Tra i giovani, inoltre, la disoccupazione scende al 31,7%. Si tratta del tasso più basso da dicembre 2011. La ripresa italiana, che è partita nel 2014, si era caratterizzata per avere una bassa richiesta di manodopera giovanile. In questo settore aveva inciso sicuramente la riforma Fornero, che aveva richiesto ai lavoratori di rimanere per più tempo nel mercato del lavoro. In questa fase una parte di quei lavoratori sta andando in pensione, quindi c'è un normale ricircolo con maggior occupazione giovanile.